Ho visto il primo episodio di Dragon Ball Daima ben due volte e la mia reazione è stata MARONNA MI JESU CREE C'è tanto, veramente tantissimo potenziale che adesso ne andiamo a parlare insieme perché ci sono talmente di quei dettagli, talmente di quelle cose pazzesche all'interno di questo episodio che bisogna assolutamente esplorarle, quindi un po' un'analisi, un po' vi dico proprio le mie sensazioni da fan di Dragon Ball e andiamo quindi a vedere insieme se questo anime è effettivamente promettente oppure potrebbe lasciare un po' a desiderare L'episodio si lancia subito parlando delle sfere del drago Ricordiamo che è il nome della serie, Dragon Ball, quindi vuol dire che adesso si ritornerà molto a parlare delle sfere del drago cosa che talvolta si era persa un po' e quindi si inizia con una serie di scene veramente incredibili con uno stile pazzesco dedicate al passato di Goku e a tutta la sua storia quindi andiamo a ripercorrere praticamente con quelli che sono proprio i disegni dell'epoca tutta la prima serie, rivediamo varie scene, vari personaggi andiamo a rivedere addirittura anche la prima parte di Zeta l'episodio ci va a mostrare direttamente Radish mi è piaciuto veramente tantissimo rivederlo perché ormai era totalmente sparito e poi si parla anche proprio delle caratteristiche dei Saiyan di quando Goku scopre di esserlo e in quel preciso istante, attenzione, si vede Bardak questo Bardak mi ha incuriosito tantissimo perché quindi questa serie non dovrebbe essere collegata con Super eppure c'è lì un Bardak di Super non è il Bardak delle origini del mito al momento questa serie è collocata dopo Majin Buu ma prima della battaglia con Beerus quindi c'è tutto questo periodo ma in ogni caso ci sono dei dettagli di cui parleremo tra poco che mi fanno pensare che forse questa serie non sarà direttamente collegata a Super ma ci arriviamo un po' alla volta mi sono emozionato veramente un botto quando hanno fatto vedere semplicemente tre screen assurdi e stiamo parlando delle immagini di Freezer, Cell e Majin Buu uno stile veramente pazzesco di disegno e non erano animati, c'erano per lo più delle immagini e erano fatti con uno stile talmente azzeccato moderno anche per questi personaggi che mi sono emozionato li rivedrei come dire anche in azione con uno stile di questo tipo ma comunque dopo questa piccola introduzione che dura un paio di minutini un po' sai anche per avvicinare quel pubblico nuovo e spiegargli un attimino come funziona Dragon Ball almeno per sommi capi poi chi non lo conosce Dragon Ball avrà veramente tanto da recuperare si passa a questo mondo demoniaco lo abbiamo visto nei trailer un botto di volte in varie tipologie ma si va proprio in quel palazzo reale perché immaginavo lo fosse e all'interno ci vengono presentati subito i protagonisti dell'episodio che non sono né Goku né Vegeta e né nessuno dei guerrieri Z i protagonisti sono Goma e poi De Gezu che in realtà viene svelato subito dal nulla essere questo fratello di Kaioshin e mi ha incuriosito veramente tantissimo notare come questo personaggio abbia come dire un po' in antipatia il proprio fratello perché lo considera una rivista tant'è vero che il Kaioshin per essere diventato Kaioshin dell'universo 7 probabilmente ha scalato un po' sai le classifiche di importanza come personaggio una delle parti che mi è piaciuta di più in assoluto è il momento in cui De Gezu e Goma fanno zapping come se fosse una tv e scoprono tutta quella che è stata la storia di Majin Buu ma soprattutto la storia di Darbula perché loro erano interessati a Darbula e il loro obiettivo era capire che fine avesse fatto Darbula dato che essendo il re supremo dei demoni cioè il re di quel reame mancava da troppo sono andati a verificare che cosa fosse successo e beh ragazzi hanno scoperto un disastro sono rimasti veramente colpiti nel vedere appunto tutta la storia di Babidi che aveva appunto preso il controllo mentale su Darbula e per loro è stata una cosa come dire veramente devastante perché si sono detti ma com'è il nostro grande re supremo è stato controllato da qualcun altro quindi mi ha incuriosito vedere come hanno reagito mi è piaciuto molto perché è molto plausibile cioè è realistico che loro facciano oh maronna mia ma che sta succedendo e poi hanno visto anche il modo in cui Majin Buu una volta risuscitato abbia mangiato il loro re cioè io mi immagino loro che sono stati sempre governati da Darbula credo verso il quale avevano un po' di paura o comunque era rispettato o vuoi per buoni motivi o vuoi per cattivi motivi qualcuno se l'è mangiato a Darbula pazzesco e ovviamente incominciano ad avere paura dicono ok in qualche modo Babidi e questo Majin Buu possono venire in questo mondo ma poi andando avanti scoprono chiaramente che Goku e i suoi amici riescono a battere Majin Buu e mi ha stupito vedere come abbiano così tanto paura di questi mortali che possono utilizzare la magia cioè nemmeno capivano bene troppo il ki c'è De Gezu una parte specifica sì dove dice che fanno uscire dei lampi dalle mani quindi come se non avessero per nulla familiarità con colpi energetici quindi infatti credo che per lo più Goma quest'altro personaggio ovvero De Gezu controllano per lo più un potere magico e infatti loro pensano che si tratti di un potere magico quindi devono correre assolutamente ai ripari ma a parte questo ragazzi mi è piaciuta veramente un botto questa parte dedicata a circa 10 minuti quasi un quarto d'ora più o meno a tutta la saga di Majin Buu hanno ridisegnato in una maniera secondo me azzeccatissima e quindi rianimato delle parti molto belle anche se sono state brevi però ragazzi è un riassunto di certo non potevano riproporre tutto Z ma in ogni caso abbiamo rivisto Vegeta e il suo grande potere contro Majin Buu abbiamo visto anche un po' Gohan Supremo poi lo scontro tra Majin Vegeta e Goku sono piccole fasi che durano poi relativamente pochi secondi ma vederle ridisegnate per me da fan storico di Dragon Ball Z ma di Dragon Ball in generale ci sono cresciuto cioè ragazzi mi sono emozionato un botto ecco io rivedendo queste scene sono tornato bambino come quando tornavo a scuola a orario di pranzo oppure magari alle 4 del pomeriggio a volte e quindi ritrovavo l'episodio in tv oppure mia madre lo aveva registrato su VHS per non farmelo perdere talmente che ero preso bene tutto questo mi ha fatto veramente come dicevo ritornare bambino bellissimo e poi si entra in una parte un po' più particolare si stoppa tutta la questione dedicata a Goku e i suoi amici che qua sono solo delle comparse almeno in questa fase e poi Goma o meglio De Gesu fa notare a Goma che ora lui è diventato il nuovo re io vorrei approfondire vorrei capire Goma che ruolo aveva sotto Darbula forse non credo sia suo figlio ma dovrebbe essere forse un sottoposto il suo braccio destro quindi il tutto su due piedi è passato a Goma che è il nuovo re quindi incomincia subito a dare ordini subito preso bene dice che deve fare un discorso ai tre regni demoniaci cioè si è preso subito le responsabilità è stata molto curiosa come cosa quindi dovrà parlare con tutti i Majin quindi qua li chiamano proprio Majin direttamente però un personaggio ragazzi che io ho amato in una maniera pazzesca ed è già la mia nuova waifu incredibile di sempre è la dottoressa Arinsu veramente bellissima ma proprio come design come stile come si comporta il modo intrigante in cui parla e si atteggia quindi sembra essere una ricercatrice non sappiamo cosa sta ricercando qual è il suo campo specifico che studia spera o meglio dice a Regoma che è ovvio che lui dovrà continuare a finanziare i suoi studi ma comunque si vede che è un personaggio molto sveglio molto interessante tant'è vero che poi sembra abbia già viaggiato verso il pianeta Terra per informarsi di più su Goku e i suoi amici in ogni caso mi piace come questo personaggio si riveli già così come dire furbo scaltro e credo che potrebbe avere un ruolo molto interessante per il futuro e quindi per tutti i prossimi episodi successivamente una cosa molto importante forse una delle più importanti che ho tralasciato fino ad ora ma bisogna citarla e che Regoma nota effettivamente che ci sono delle sfere del drago proprio come nel mondo demoniaco e tra poco ne parliamo e quindi siccome queste sfere del drago nel mondo demoniaco non possono essere utilizzate approfondiamo tra poco vuole andare sulla Terra per esprimere un desiderio e quindi far tornare bambini Goku e i suoi amici o in generale tutti quelli che hanno sconfitto Majin Bu per quale motivo a non eliminarli direttamente lo spiega De Gesu ovvero non possono esprimere un desiderio di questo tipo perché è alimentato da energia malevola da energia negativa mentre invece probabilmente queste sfere del drago sono alimentate da energia cioè o meglio non energia ma magia bianca e di conseguenza possono trovare un espediente e quindi l'unico più interessante è farli tornare bambini quindi sì questo ha un po' le vibes di GT perché la motivazione è un po' quella per quanto in GT in realtà Pilaf aveva espresso un desiderio per caso invece qua Re Goma perché ormai è un re vuole esprimere questo desiderio appositamente quindi vuole toglierseli subito dalle scatole perché non sia mai che adesso il suo nuovo grande regno nel regno dei demoni venga minacciato in qualche modo poi il secondo desiderio è voler prendere il terzo occhio demoniaco cioè leggendario oculus terziario che addirittura era andato perduto nel regno di Arbula padre di Darbula quando ragazzi quando iniziano a parlare di lore del passato futuro presente quando approfondiscono sta roba io impazzisco cioè io mi piglio veramente veramente bene chiaro è sempre un modo anche per Toriyama che ha partecipato al 100% a tutta la struttura di super anzi volevo dire di Daima e a tutta la sua storia quindi di sicuro c'è sempre un po' quella reintroduzione di personaggi con delle parentele questa è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo e l'ha fatto anche con la sorella di Bulma con Giaco con Iaco comunque a prescindere da tutto si parla di questo terzo occhio appena si è parlato mi è venuto subito in mente Tenzing perché c'è il terzo occhio ma non hanno alcun collegamento sembra comunque un grande strumento che dà un grande potere chissà se da quello derivano grandi responsabilità ma a parte le battute sembra di no perché lo vogliono utilizzare a loro piacimento e poi il terzo desiderio delle sfere a Goma non viene in mente ma De Gesu dice ok posso esprimere io qualcosa questo mi fa pensare un po' quasi che questo De Gesu aspiri proprio come suo fratello a mirare in alto cioè perché vuole esprimere un desiderio magari chissà esprime qualcosa di molto importante per dargli qualche vantaggio non so dargli una posizione migliore nuovo potere questo sarà tutto da vedere ed è da questo punto in poi che Re Goma dice di prendere la navicella spaziale perché devono andare sulla terra per andare a prendere le sfere del drago ed esprimere il desiderio e si parla di un nameciano che si intravedeva già nei trailer e si pensava fosse magari un flashback del grande mago piccolo o un nameciano particolare cattivo all'improvviso si presenta questo neva che tu lo vedi assomiglia alla lontana sai un po' a kami cioè il supremo che noi conoscevamo però ha un po' quelle vibes lì il bastone ci assomiglia sembra essere comunque molto vecchio attempato però comunque simpatico e a quanto pare puzza perché non si lava poverino vabbè comunque sembra essere scarso ma si nota prima di entrare nella navicella che ci sono delle sfere del drago protette dai tamagami questo è il nome specifico ed è stato proprio lui a creare le sfere del drago di questo mondo demoniaco le sfere del drago in questo mondo demoniaco sembrano essere solo tre e sono molto grosse forse più sono grosse più il drago ha potere perché Polunga diciamo essendo sfere un po' più grandi poteva esprimere tre desideri poi vabbè lo può fare anche Sharon ma solo dopo che Dende diciamo le ha ricostruite in qualche modo però sono protette dai tamagami sono dei cavalieri che mi hanno subito colpito mi piacciono un botto perché poi a me piacciono tanto le armature mi ricordano sempre un po' i Power Rangers di quando ero bambino voglio approfondire ma su questo si sbilanciano relativamente poco però questi tamagami proteggono le sfere per non permettere a nessuno di esprimere desideri quindi raccoglierle e questo per quale motivo? Cioè forse solo i più valorosi solo i più forti solo i meritevoli possono esprimere desideri con queste sfere del drago? È probabile e forse Goku e i suoi amici dovranno combattere contro questi tamagami una volta tornati bambini per recuperare le sfere e tornare adulti? Chissà questo poi sarà da verificare per ora sono solo delle teorie molto semplici comunque a prescindere da questo mi ha incuriosito tanto questa parte quando si esplorano altre sfere le sfere sono tre ma non mi stupisce troppo perché se non ricordo male le sfere del drago che avevamo visto in Super per quanto riguarda la saga di Granola erano solo due e quindi il desiderio che si poteva esprimere magari non faccio troppi spoiler ma comunque sembravano sfere piuttosto semplici e debolucce potevano esprimere desideri non troppo eccessivi quale sfere sono tre quindi si potrebbe pensare a desideri non troppo esagerati ma comunque sono molto grosse chissà se poi l'imponenza cioè proprio la stazza di queste sfere ha qualche significato se ve lo ricordate voi o se è stato già detto scrivetemelo perché così almeno ci confrontiamo comunque bellissima questa parte e si passa poi direttamente al viaggio molto carino che devono passare attraverso la bocca di questo pesce meccanico gigante sempre un po' sullo stile di Toriyama e la cosa che mi ha colpito molto che sembra banale ma secondo me non lo è è che per andare nel mondo esterno perché il mondo di Goku e tutti gli altri universi sono chiamati mondo esterno rispetto al mondo demoniaco ecco per accedere al mondo esterno bisogna utilizzare una password un codice specifico questo che vuol dire che non tutti possono uscire da questo mondo da questo regno demoniaco per quale motivo cioè forse anche in questo caso solo gli addetti ai lavori solo che ne so quelli che fanno parte della stirpe reale possono uscire da entrare però ci ria come dire tra poco ci arriviamo però ad una situazione interessante forse c'è stato in passato un avvenimento che ha poi portato inevitabilmente a dover mettere un codice per andare via ci arriviamo tra pochissimo e poi così dal nulla arriviamo ad una parte in cui viene detto che la dottoressa Rinsu era già andata molto prima di loro da Goku e i suoi amici in generale nell'universo 7 e sulla Terra però poi si cambia scena si passa al compleanno di Trunks dice esplicitamente che fa 9 anni e il suo compleanno lo festeggiano sempre alla capsule corporation Goku qua svela una cosa interessante in relazione al fatto che Trunks a 9 anni sembri ancora piccolo Goku dice che lo sviluppo lo fanno a 15 anni io adesso non ricordo l'età ma forse è proprio il periodo in cui più o meno Goku fa anche lui lo sviluppo e quindi affronta piccolo mi sembra forse un po' più grandicello ricordatemi un po' questo aspetto però effettivamente Goku è rimasto bambino per molto tempo quindi hanno dato un po' una spiegazione sai al fatto che Goku è rimasto bambino per troppo tempo una spiegazione di lore poi la spiegazione è che Goku almeno nelle prime fasi piaceva da quando era piccolino quindi vabbè comunque molto bella questa quando fanno questi approfondimenti riguardo i Saiyan la loro storia quando aggiungono cose chiaramente che abbiano senso mi piace veramente un botto godo come un pazzo perché è una riscoperta dopo 30 anni di Dragon Ball avere ancora altra roba comunque basta devo gesticolare di meno ma sono preso troppo bene e qui poi c'è un'informazione chiave stiamo parlando del Kaioshin e di Kibit loro in Z erano fusi e lo sono stati anche in Super fino al momento in cui Kibitoshin ha raccolto le sfere del drago di Polunga per esprimere il desiderio di dividersi e quindi si sono divisi questa cosa va ovviamente a cozzare completamente con quello che stiamo vedendo qua in Daima perché loro si sono come dire divisi grazie a Majin Bu si parla infatti che assorbendo una fusione Potara Majin Bu possa dividere le due persone che ne fanno parte grazie ai suoi gas interni la cosa è un po' vaga non viene specificato troppo però ci sta perché chi lo spiega è Kibit e lo sta spiegando a Goku che di certo non è un pozzo di scienza possiamo metterla così come sappiamo il suo approccio è più quello di combattimento piuttosto che riflessivo però comunque è una spiegazione che quindi mi fa un po' pensare al fatto che inevitabilmente Daima possa prendere un arco narrativo differente e non collegarsi direttamente a Super a meno che Kibit e il Kaioshin non rifacciano la fusione però cioè mi sembrerebbe troppo una ripetizione questo potrebbe poi collegare a Super però non lo so la vedo un po' complicata dobbiamo vedere appunto che succede Gohan grande mancanza non l'avevamo visto nei trailer perché si dice solo che sta studiando dopo tanti combattimenti ma deve studiare va bene e poi c'è lo scontro tra Goku e Vegeta dura relativamente poco ma è il necessario per questo episodio introduttivo o l'episodio non dura nemmeno 20 minuti dura più di mezz'ora perché c'è anche quella fase iniziale e quindi in pratica amici miei vediamo un bello scontro molto semplice però accattivante con delle belle animazioncine non animazioni storiche incredibili di sempre ma comunque molto bello da vedere ho apprezzato tantissimo una bella citazione alla saga dei Saiyan il momento in cui c'è lo scontro delle aure tra la Kamiamea e il canone Galic c'è la scena di Goku che come dire quando mette massima energia nella sua Kamiamea c'è proprio l'inquadratura che vediamo nella saga dei Saiyan quando c'è lo scontro delle aure e lui si sforza utilizzando il Kaioken grandissima citazione che da fan di Dragon Ball non potevo non apprezzare quindi bellissimo e alla fine sembra che Goku dia un pugno a Vegeta e vince però si vede lontananza non si vede troppo bene non dobbiamo far vincere sempre Goku diamo valore a Vegeta il principe dei Saiyan e poi ragazzi si passa nuovamente a Regoma che vanno tutti da Dende sanno anche dove andare De Gesus ve la Dende una cosa molto importante ecco parliamone che lui è un demone tutti i Nameciani sono demoni io ho visto già in rete dei commenti ma che è sta cacata ma com'è possibile ma scusatemi ragazzi occhio non ci dimentichiamo al Satan il grande mago piccolo il grande demone piccolo cioè lui anche se era poi la parte malvagia effettivamente del Supremo era palesemente un essere demoniaco tant'è vero che lui crea altri demoni che sono poi tipo i suoi figli come vogliamo chiamarli Tamburello e tutti gli altri quindi questa spiegazione secondo me ci sta alla grande e quindi fa capire che i Nameciani sono scappati dal mondo demoniaco e quindi si sono trasferiti poi in qualche modo magari scopriremo come su Namek che ora quindi i Nameciani è strano siano esseri pacifici palesemente però comunque sono esseri demoniaci ma anche il design l'ha sempre mostrato parliamoci chiaro quello che De Gesu dice è che hanno le rocchie a punta e quindi per questo sono demoni ma in Dragon Ball credo ci siano altri esseri che hanno le orecchie a punta e forse non sono demoni questo sarà da verificare anche Popo c'è le orecchie a punta però con Popo è un discorso tutto differente qua vediamo poi il vero potere di di questo Neva di questo Nameciano che forse è palesemente il Nameciano più forte di sempre con dei poteri assurdi poteri magici incredibili perché tu lo vedi scarso lo vedi vecchio e tutto quanto ma Reggoma gli dice ti faccio vivere per altri mille anni se tu recuperi le sfere del Drago quindi vuol dire ragazzi che questo Neva è millenario ha migliaia di anni sulle spalle e quindi ha potuto coltivare il suo potere il suo potere magico in tanto tempo io spero che approfondiscano questa storia guai diù perché mi piace un botto questo approfondimento che è stato buttato un po' lì sui Nameciani e mi piacerebbe capire anche come sono arrivati su Namec magari approfondiranno comunque ragazzi Neva con un potere incredibile fortissimo prende le sfere del Drago che ormai erano già state usate sono rocce le fa tornare riutilizzabili cioè un potere del genere per una Mec c'è una roba assurda fa quello che vuole crea le sfere del Drago le fa tornare di nuovo utilizzabili cioè non è che le può far tornare quando vuole ma può in qualche modo riuscire a farle riutilizzare più in fretta ecco quindi vengono utilizzate le sfere del Drago Dende non è d'accordo ma nessuno se ne frega quindi le sfere del Drago e il primo desiderio che viene espresso è che tutti coloro che hanno combattuto appunto con Majin Buu quindi Goku e i suoi amici tornino bambini a circa 6-7 anni e chi ha già questa età deve tornare neonato e quindi c'è una scena veramente velocizzata molto veloce in cui tutti tornano bambini questo ragazzi che vuol dire che questo episodio che è un po' di introduzione ma ha un botto di roba veramente molto interessante ha già messo le basi per far avanzare la storia cioè qua non ci si perde troppo in chiacchiere non si rusha perché comunque l'episodio si prende i suoi tempi ma sono secondo me giusti i tempi e quindi praticamente sono già tutti i bambini e già dal secondo episodio si può partire con la storia di Dragon Ball Dime una bellissima introduzione secondo me con questo episodio che dura più del dovuto quindi rivediamo tutto Z e già mi emoziono un botto ma per come è fatto mi emoziono cioè l'hanno riproposto bene poi abbiamo conosciuto Regoma De Gesu la dottoressa Rinzu bellissima e Neva cioè io non vedo l'ora di approfondire tutte le storie e tutta la lore dedicata a questi personaggi e a tutto questo anche mondo demoniaco quindi ragazzi per me da fan di Dragon Ball al momento ci siamo alla grandissima la serie avrà un bel po' di episodi quindi prima di dire che è un capolavoro prima di dire fantastico incredibile dobbiamo aspettare però almeno riguardo questo primo episodio sono soddisfattissimo gasato contento mi sono emozionato e quindi non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio che commenteremo insieme la prossima settimana adesso però dopo tante chiacchiere devo bere un po' d'acqua tocca a voi scrivetemi che ne pensate e quali sono state le vostre impressioni ed emozioni con questo primo episodio un bacione a voi che è un po' di